Siamo qui a Palazzo Ducale con Gianni Riotta, i soldi nell'acqua e investire per innovare il servizio, soprattutto il rapporto fra politica ed economia. Sentendo questi giorni sembra che tutto sommato la politica sia in qualche modo disattenta a questo settore dell'acqua. Disattenta o attenta a modo suo, perché abbiamo avuto divisioni molto gravi sul problema dell'acqua, gestite alla luce dell'acqua bene di tutti, che è ovviamente fuori dalla discussione. La discussione è diversa, quando ho cominciato a lavorare qualche anno fa nel sud partivano 100 litri alla sorgente e ne arrivava uno al rubinetto e oggi questa percentuale è ancora peggiorata. Il problema non è chi fa i soldi sull'acqua, ma il problema è come assicurare un servizio equo a tutti quanti e allo stesso tempo evitando gli sprechi. Il dopo-referendum come lo vede? È male, perché nel referendum c'è stato un eccesso di retorica. Chi ha proposto una razionalizzazione dei servizi ha fallito nello spiegare bene il messaggio razionalizziamo il servizio perché è a favore del cittadino. I referendari, sullo slogan l'acqua è un bene di San Francesco, hanno dominato il campo. Ignorando però che l'acqua è la sorella di cui parla San Francesco, però noi la sperchiamo. Allora un maggiore coordinamento tra pubblico e privato porterebbe a un migliore utilizzo dell'acqua, non un peggiore utilizzo dell'acqua.